Comunità Montana e Consorzio di Bonifica insieme per difendere il Vallo di Diano dalle emergenze idrogeologiche. È stato firmato nei giorni scorsi un importante protocollo d'intesa tra i due enti per prevenire i sempre più crescenti fenomeni franosi e alluvionali che interessano il territorio valdianese. Si apre così una nuova stagione progettuale concertata che vede i due presidenti, Beniamino Curcio per il Consorzio di Bonifica e Francesco Cavallone per l'ente montano lavorare insieme per dare una mano alla fragilità del territorio. Sottoscritto il protocollo si entrerà subito nella fase operativa con l'organizzazione delle squadre di intervento dislocate in tutti i comuni del comprensorio. Abbiamo deciso con il presidente Cavallone di unire le forze, cioè i due enti devono viaggiare insieme sul fronte del disesto idrogeologico. Abbiamo nel Vallo di Diano un problema annoso che è quello degli allagamenti che si verifica ogni qual volta c'è un evento alluvionale. Però noi dobbiamo portare avanti questi interventi con una filosofia nuova, sostanzialmente dobbiamo anche tenere conto dell'ambiente, dobbiamo rispettare l'ambiente, dobbiamo riqualificare i sistemi fluviali e quindi soprattutto avere un'attenzione particolare anche alla componente vegetazionale. credo che attraverso un'opera di prevenzione, di cura del territorio, di controllo del territorio sicuramente si possono evitare quelli che sono degli episodi naturalistici che stanno capitando molto più spesso negli ultimi tempi. Andiamo avanti così, dobbiamo continuare per questa strada e credo che il nostro territorio partendo da queste opere di prevenzione dello stesso sicuramente potrà andare molto lontano.